Il suo nuovo programma, Barbara D'Urso, la notizia più bella per lei, da dove ricomincia? Finalmente, possiamo gioire per l'arrivo della lungamente attesa conferma. Barbara D'Urso ha ufficialmente siglato il suo accordo per la conduzione del tanto anticipato nuovo programma, confermato da recenti e avvincenti indiscrezioni. I prossimi giorni si prospettano come un vortice di attività frenetica per la celebre conduttrice, con gli occhi di tutti i puntati su di lei, soprattutto durante la partecipazione emozionante a domenica in il 3 marzo. Quest'occasione, dove sarà ospite di Mara Venier, costituirà un appuntamento imperdibile per i fan, rappresentando la sua prima intervista dopo l'addio burrascoso a Mediaset. L'atmosfera è permeata da una carica di curiosità e aspettativa palpabile, poiché il pubblico anela a scoprire i dettagli del prossimo entusiasmante progetto di D'Urso. Si sente nell'aria il sussurro interrogativo riguardo a eventuali rivelazioni che la conduttrice potrebbe fare, magari svelando anticipazioni e retroscena sullo show tanto atteso. La domanda che molti si pongono è se Barbara affronterà il delicato tema della sua sostituzione a Pomeriggio 5 in favore di Mirta Merlino. E se vorrà esprimersi su questioni legate a Pier Silvio Berlusconi. Le anticipazioni provenienti da fonti autorevoli come Daily Gossip Scoop aggiungono ulteriori sfumature al quadro del nuovo progetto televisivo di Barbara D'Urso. Emergono dettagli intriganti, indicando che il programma sarà trasmesso su 9, un canale che ha già visto il successo di un altro noto conduttore precedentemente allontanato dalla Rai. L'appuntamento con lo show di D'Urso sembra essere stato fissato per il martedì sera, una scelta che potrebbe rendere la serata ancora più speciale per il pubblico affezionato. La scelta del canale Discovery come piattaforma per il suo ritorno in televisione assume un ruolo chiave, dimostrando la convinzione e la fiducia che la rete ha riposto nella conduttrice. L'attesa cresce sempre più intrigante. E il pubblico dovrà armarsi di pazienza fino all'intervista programmata a Domenica in per scoprire ulteriori dettagli sul futuro professionale di Barbara D'Urso, il quale sembra delinearsi con sempre maggiore chiarezza in direzione del canale 9.